Complimenti a tutti i ragazzi che hanno partecipato all'International Volley Cup. Benvenuti a Uffida! E' Paola Benigni. Grazie! Alla fine andrà tutto bene e se non andrà bene non sarà certo la fine. Abbiamo un roster di squadre decisamente invidiabile. E' una delle manifestazioni più importanti di tutto il panorama nazionale. Grazie a tutti voi! Nulla di tutto questo sarebbe possibile senza la partecipazione concreta e significativa degli sponsor. In primis l'azienda Chuchu, solo chi gradisce i sogni. Beh, credo che a questo punto si possa entrare nel vivo del torneo. Pien untung al quelle delle capacità in stunni! Ti issi! Pien! Puoi! Pien! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.